Se aprissi questa scatola, sai cosa troveresti? Il coraggio di non fermarsi davanti a niente pur di raggiungere un bambino che ha bisogno di te nonostante le avversità o le strade più difficili perché quando questa scatola arriva a quel bambino significa che cibo, vaccini, coperte lo salveranno significa che tu lo hai raggiunto e lo hai salvato Nessuno ci può fermare La tua firma ci porta lontano Dona il tuo 5x1000 all'UNICEF Grazie